Buon pomeriggio a tutte e a tutti, intanto grazie per questo invito, fatemi salutare l'amico Carmine Marinucci, ma in generale l'associazione di Calper che quest'anno festeggia i dieci anni di attività e sono molto felice di averla vista nascere e crescere, quindi posso freggiarmi dell'amicizia di Carmine, ma anche dell'opportunità oggi di restituire il frutto di un lavoro lungo, appassionato e molto serio sui temi del patrimonio culturale, dell'educazione e anche del digitale e delle sfide che ci attendono. La carta che viene presentata è un lavoro al quale ho indegnamente contribuito e che in qualche modo inquadra il lavoro di questi dieci anni, ma soprattutto il lavoro di là da venire, in particolare il diritto di tutte e tutti ad un'educazione di qualità, il tema dell'orientamento come tema cruciale del nostro tempo, non solo per sviluppare le competenze che servono a un mondo del lavoro sempre più complesso, ma anche per fare in modo che i talenti irripetibili dei bambini e dei ragazzi trovino una risposta vera nel sistema educativo e che quindi il sistema educativo cambi in funzione di una generazione che è diversa da quelle del passato, anche per l'impatto che le tecnologie hanno sulla sua vita. E qui entra in gioco il tema del digitale, il diritto ad essere educati al digitale, alla consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti tecnologici e anche, diciamo, le sfide che il digitale pone all'educazione, al nostro patrimonio e a tutti noi come classe politica e come società civile. In particolare le sfide dell'intelligenza artificiale sono quelle più interessanti, più importanti, ma anche quelle più complesse ed è fondamentale fare un lavoro come quello che fa l'associazione di diffusione di consapevolezza, di competenze e quindi di nuovo ringrazio Carmine e tutte e tutti voi per l'instancabile lavoro di questi anni, sperando presto di essere con voi di persona, dato che purtroppo oggi non mi è stato possibile festeggiare con voi questa importante ricorrenza e l'inizio di questa nuova sfida. Grazie mille e buon lavoro!